Salve ragazzi e buongiorno a tutti, benvenuti sul canale, siamo sempre su Fortnite ragazzuoli, oggi è il 31 gennaio 2021 e siamo qua per vedere il negozio oggetti di Fortnite, che cosa ci riserva? Ho visto un'anteprima o qualcosa carino, attenzione ma vi ricordo prima di tutto andate nel negozio oggetti, cliccate in basso a destra su porta un creatore e qua scrivete se vi fa piacere il codice LordCreamor, scritto LordCreamor è un codice della Epic Games, quindi funziona su tutti i giochi della Epic, compreso Fortnite, Rocket League, Among Us, eccetera 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 inserite questo codice, premete il pulsante accetta e shoppate quello che volete ogni acquisto che farete supporterà in piccola parte il canale ma adesso andiamo a vedere subito quali sono le novità di oggi del negozio oggetti e infatti eccolo qua signori, abbiamo subito come oggetti in evidenza Snake Eyes ragazzi, piccone incluso attenzione 1800 V-Buck, praticamente abbiamo questa skin che è una skin epica equipaggio alla katana di Snake Eyes come dorso decorativo o piccone, molto molto figa questa cosa quindi abbiamo lui, eccolo qua, nome vero riservato, ninja veterano confermato fa parte del set clan Arashikage, mamma mia eh sta roba prima apparizione capitolo 2 stagione 5, molto bello come costume, veramente molto bello il suo dorso decorativo, eccolo qua, la katana di Snake Eyes, molto molto bella pure lei lama leggendaria forgiata dai maestri e in più abbiamo lo strumento di raccolta che è questo, che da quello che c'è scritto qua, quando lo equipate insieme alla skin e a tutto il resto lo tira fuori proprio dal dorso decorativo, che è una cosa molto figa e infatti come vedete c'ha la stessa dicitura del dorso decorativo lama leggendaria forgiata dai maestri e lama leggendaria forgiata dai maestri molto molto carino, tutta questa robetta qua raga per 1800 V-Buck secondo me è un'ottima offerta, ma poi è fatto bene, cioè ci sta dai, bello bello andiamo avanti e abbiamo Bombarolo Lucente signori, guardate qua con il lama tutto bellissimo arcobaleno il futuro sembra luminoso, fa parte del set Sole e Arcobaleni, prima apparizione stagione 1 1200 V-Buck, è molto carino e poi abbiamo anche l'artigliere Lucente, anche lui con la maglietta, con l'orsetto tutto colorato, arcobaleno a tutte le parti, molto carino guarda il lato positivo della vita, fa parte del set Sole e Arcobaleni pure lui, prima apparizione stagione 3 e abbiamo anche il dorso decorativo che è la borsa Lucente, che è questa qua molto scicchettosa, molto particolare questo personaggio non dimenticare di sorridere, vediamo se sorride, più o meno dai e poi abbiamo il colpo arcobaleno, questo l'abbiamo già visto riempiri di botte, fa parte del set Sole e Arcobaleni prima apparizione stagione 3 ed è reattivo quindi reagisce alle picconate più o meno costa 1500 V-Buck e poi abbiamo il dirigibile Lucente, questo è molto caruccio con tutta la potenza dell'arcobaleno fa parte del set Sole e Arcobaleni prima apparizione stagione 7 praticamente è questo unicorno gigante tutto così pieno di roba carino, 1200 V-Buck e poi abbiamo ancora, attenzione perché andiamo con un costume leggendario che è molto figo, ma anche questo è molto figo bellissimo, scusatemi Valkyria, attenzione costume leggendario una rivelazione raggelante fa parte del set Araldo guardiamolo un po' nei dettagli è molto carino, molto veramente carinissimo sto coso come al solito costa 2000 V-Buck e in più abbiamo anche il dorso decorativo che sono le ali della Valkyria i venti invernali prevalgono molto carino e poi abbiamo ragazzi un deltaplano leggendario attenzione, questo è bellissimo ha la gelida risvegliato da un antico sonno fa parte del set Araldo è bellissimo no vabbè è bellissimo raga sputa pure ma è troppo bello sto coso è bellissimo ci sta tantissimo e poi abbiamo un costume raro Trambusto causa un manicomio due stili selezionabili molto carina come skin molto molto carina fa parte del set Guerrieri delle Desolazioni prima apparizione stagione 6 e ovviamente due stili selezionabili oltre a questo vi danno il dorso decorativo arrugginito e affidabile la camera puntuta mamma mia fa parte del set Guerrieri delle Desolazioni pure lui costa tutto 1200 V-Buck e poi abbiamo costume raro Massacro abbraccia la distruzione fa parte del set Guerrieri delle Desolazioni prima apparizione stagione 6 ha due stili selezionabili e in più abbiamo il dorso decorativo che è il pacchetto punture molto carino pure questo sporco e lurido carinissimo 1200 V-Buck e abbiamo ragazzuoli il rottame volante un deltaplano epico carinissimo potrebbe portarti giusto dove stai andando cioè più di più di quello non ci va perché poi si sfascia fa parte del set Guerrieri delle Desolazioni prima apparizione stagione 6 e costa 1200 V-Buck e qua abbiamo uno strumento di raccolta raro lo scheggiatore pronto a punzecchiare ogni cosa a cui punti fa parte del set Guerrieri delle Desolazioni prima apparizione stagione 6 anche lui costa 800 V-Buck e andiamo a vedere cos'altro abbiamo signori attenzione perché abbiamo le offerte di ogni giorno Dinamo ma chi è il rei misterio al femminile Doma l'anello fa parte del set Luccia Luca non so come si pronunci prima apparizione stagione 5 1200 V-Buck poi abbiamo un costume non comune artigliere brutto questo mi piace un casino non so perché ma è molto bello minimal però è bellissimo carino condotta ed esecuzione fa parte del set squadra brutto prima apparizione stagione 10 e costa 800 V-Buck e poi abbiamo Emote esilarante dai pepe alla vita 500 V-Buck e ancora Gran Fanfara Barahonda prima apparizione stagione 8 200 V-Buck e il Gagnam Style che ce l'ho perché me l'ha regalato esoteric via ragazzi salta in selle e vai 500 V-Buck e poi Piannistei anche questo già ce l'ho non mi ricordo chi me l'ha regalato fai sentire il tuo chilo di battaglia insomma sacco di bella roba e torniamo a rappresenta il tuo club l'abbiamo già visto li rivediamo molto velocemente abbiamo un sacco di costumi diversi ognuno di loro ha 23 stili sono stili calcistici eccoli qua vedete Santos FC Manchester Milan Atalanta insomma sacco di roba li potete scegliere costano 1500 V-Buck e nell'ordine abbiamo la ronda del campo il placatore tichi il tiratore specialista proprio l'impenetrabile dominatrice del derby contropiede signore del controcampo sergente spazzata galattico cacciatore potente ce ne abbiamo un bel po' ragazzi quindi scegliete 1500 V-Buck molto carina come offerta e sempre per rappresentare il tuo club abbiamo le emote ragazzi il pugno aero di Pelé che ce l'ho me l'ha regalato sempre su Taric Beer poi abbiamo gioco di gambe elegante 500 V-Buck ed è anche mobile molto carino abbiamo i rimbalzi 500 V-Buck carinissimo anche questo e poi cartellino rosso omicidio 200 V-Buck e adesso trombetta anche questo 200 V-Buck molto molto carini e torniamo con le classiche offerte a tempo ragazzi abbiamo i bundle il pacchetto Diva Diamantina lo sappiamo a memoria 3,99€ abbiamo Diva Diamantina il suo pacchetto splendido come dorso decorativo la lama 6 carati come strumento di raccolta e 600 V-Buck 3,99€ oppure possiamo scegliere il bundle ride bene che ride ultimo 29,99€ ci abbiamo 3 skin di Joker normale giacca e cappello o solamente giacca abbiamo Poison Ivy con due stili Arborea e Normale ma si chiama Arborea questa? me ricordo predefinito e umano predefinito e umano vabbè io lo chiamo Arborea che me frega poi abbiamo Remida skin leggendaria con due stili con e senza casco e abbiamo dorsi decorativi il florileggio il ghigno di morte l'emblema di Mida che è un dorso decorativo leggendario attenzione e abbiamo ancora strumenti di raccolta l'incoronatore l'ascia d'edera il tiro mancino la vendetta di Joker e la scia pesca una carta e se tutto questo non vi basta per 29,99€ vi regalano pure 1000 V-Bac quindi ragazzuoli è molto bello questo bundle mi piace e come sempre abbiamo la crew di Fortnite ragazzuoli abbonamento mensile da 11,99€ che vi dà il pass battaglia incluso tutti i mesi il pacchetto crew mensile che questo mese contiene il costume il dorso decorativo il piccone di freccia verde in esclusiva più vi danno 1000 V-Bac inoltre se avete già il pass battaglia ve lo rimborsano con 950 V-Bac meglio di così se muore ragazzuoli io vi ricordo ancora una volta se volete supportarmi con tutti i giochi della Epic Games quindi Fortnite Rocket League Among Us e tutti quelli che trovate nel launcher della Epic Games andate in basso a destra c'è un pulsantino supporto a un creatore ci cliccate sopra scrivete il codice creatore Lord Cremor scritto Lord Cremor premete accetta e scioppate controllate il codice ogni 14 giorni perché ogni tanto la Epic lo cancella lo dovete riscrivere a mano in questo modo potrete supportare il canale e io vi ringrazio moltissimo per questo video di oggi 31 gennaio 2021 che è domenica ci fermiamo qua io spero che vi sia piaciuto ovviamente se vi è piaciuto mi raccomando ragazzi lasciate un like spolliciate condividete i video del canale su vostri social e se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina vi ricordo inoltre che sotto ogni video trovate i link di tutti i miei social di tutti i miei contatti basta andare su www.cremor.it e lasci su tutti i link del sito Viola di Youtube di Discord venite sul server Discord ragazzoli perché ci facciamo quattro chiacchiere cosa dire ancora ragazzoli io vi auguro una buona domenica e ci vediamo sempre oggi sul canale per nuovi video e nuove live ciao ragazzi